bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti e le novità sono davvero super interessanti perché stanno emergendo dei nuovi particolari che ci fanno capire cosa potremmo aspettarci in questo prosepio della stagione 5 sono stati trovate delle immagini relative alla giungla quella caspita non mi ricordo il nome ancora in italiano quella insomma a nord della mappa recintata con delle curiosità già sappiamo che c'è un ascensore segreto con un piano che non possiamo ancora vedere vedremo anche il nuovo bundle che è appena uscito vi parlerò anche delle nuove armi in arrivo prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi innanzitutto che stanno lasciando un like grazie ragazzi per il vostro like non vi costa niente premetelo quel like la in basso e soprattutto quelli che usano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio l'arrivo nel negozio del nuovo bundle quello dedicato a pizzo per chi non lo conoscesse ragazzi pizzo è uno youtuber famosissimo anche lui milioni di visualizzazioni come è successo per benji fish come è successo per nick e h30 anche per lui arriva il suo bundle dovrebbe già essere disponibile nel negozio 2800 v bucks e come vedete la skin in questione è il rocchettaro con il piccone spinato il deltaplano molto classico con questa striscia verde è una copertura che è una delle mie preferite tra le altre cose per tutte le armi quella con le bollicine verdi fosforescenti mi piace davvero tanto quindi se volete portarvi a casa un bel po di skin in un colpo solo oggi sapete come fare ma andiamo avanti a portare del oggi mi mangio le parole andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità appunto per quanto riguarda stealthy strongholds quindi la foresta la giungla quella recintata a nord della mappa sembrerebbe che sia stato aggiunto un nuovo una nuova stringa di codice chiamata s15 boss s15 ovviamente sta per season 15 per noi sarebbe la stagione 5 e il boss ovviamente è un boss si parla di un possibile boss che secondo me potrebbe essere inteso come wolverine avete in mente che camminava per tutta la foresta frignante e vi spiego anche il perché se noi andiamo a guardare queste immagini che fanno proprio parte di alcune cose che ci sono dentro questa giungla recintata si può ricondurre ad uno dei film più famosi del cinema come vedete ragazzi sto parlando di predator un film del 1987 con un giovanissimo arnold che faceva il protagonista e la trama del film parla proprio di questa navicella spaziale che lascia una capsula che cade poi in una giungla e un corpo di berretti verdi di marines è incaricata ad andare a scoprire cosa contiene che cos'è l'oggetto nell'oggetto ovviamente c'è dentro questa brutta bestia ed è tutto ambientato nella giungla quindi potrebbe seriamente essere questa la stringa di codice dedicata al boss e potrebbe esserci un predator tra virgolette che si aggirerà nella giungla più avanti staremo a vedere andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché anche un'altra notizia è davvero interessante come sapete ne parlo spesso durante i video news c'è questa sovrapposizione delle due mappe che hanno caratterizzato fortnite quella del capitolo 1 e quella del capitolo 2 dove abbiamo visto che molte delle location anzi tutte le location old presenti in questa mappa sono esattamente sovrapposte e correttamente nella posizione della scorsa mappa beh ragazzi è saltata fuori una roba super interessante avete presente la montagna quella che ha la discesa dove c'è il portone che praticamente è chiuso lì dall'inizio dal capitolo dalla stagione 1 del capitolo 2 beh la posizione di quel portone ragazzi è esattamente il punto di spawn dove venne generato nella lontana season 6 del capitolo 1 kevin anche qua un'altra un altro riferimento a kevin oppure qualcosa di più alla fine del cubo si è sempre parlato dopo dopo il fatto di non averlo più in game ma non è mai effettivamente ritornato se non come cameo ovviamente nella nella parte dedicata a foschi fumaioli dove c'è appunto il cubo davanti e le due vasche il fatto appunto che abbiano scoperto che lo spawn del di kevin sia proprio quella quella porta gigante potrebbe aprire dei nuovi spiragli per quello che potrebbe succedere nel futuro della stagione numero 5 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi anche che è da poco disponibile l'npc quindi personaggio non giocante dello snow mando il pupazzo di neve che abbiamo visto insieme all'uscita della patch 15.00 e la prossima immagine che vi faccio vedere lo potete trovare ovviamente nella foto che vi sto facendo vedere quindi dove una volta c'era l'elicottero che sponava vicino al k2 avete capito ovviamente dove sto indicando nella fotografia ma la cosa interessante relativa allo snow mando è anche questa immagine che sta girando nelle ultime ore nei vari forum di fortnite e che sembrerebbe essere un'immagine ufficiale che rappresenta ovviamente la nuova lobby a tema natalizio secondo me con la patch 15.10 che dovrebbe arrivare settimana prossima arriverà anche una possibile nuova lobby a tema natalizio e mi auguro anche delle sfide dedicate purtroppo non si parla ancora ufficialmente di winter challenge ma sappiamo anche del winter royale che qualcosa si sta muovendo e chiudiamo oggi ragazzi con l'ultimo argomento ed ecco qua quello di cui vi ho anticipato allo start shotgun western atena nei file di gioco è stato aggiunto un nuovo fucile a pompa ed è un shotgun western quindi un fucile a pompa dedicato meglio caratterizzato da dei tratti che vanno a richiamare il vecchio west e dovrebbe proprio essere quello mostrato nel trailer del pass battaglia imbracciato dalla skin dei pancakes non abbiamo purtroppo nessuna delle statistiche ma sappiamo che oltre allo shotgun dedicato appunto al western potrebbe arrivare anche l'exotic dragon breed sniper quindi un nuovo fucile da cecchino di rarità esotica diverso da quello del mandaloriano che sappiamo essere presente già in game ragazzi ci sono tante armi che probabilmente stanno per arrivare qua ve ne faccio vedere alcune prima di salutarvi e staremo ovviamente in attesa di scoprire tutto quello che vorranno farci vedere in questa season 5 io per oggi vi ringrazio tanto per avere guardato il video news mi raccomando raga il like lasciate un bel pollicione in su un commentino che non vi costa niente così mi aiutate a portare il video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao